Il campionato più equilibrato degli ultimi 6-7 anni, praticamente da quando la Juventus ha incominciato a inanellare questa serie di vittorie. Niente, il campionato più equilibrato, perché normalmente la Juventus parte con i favori dei pronostici, non lo credo sia partita quest'anno con i favori dei pronostici, ma soprattutto non lo sta dimostrando in queste prime battute. Ieri, insomma, onestamente, l'altro ieri ha perso sicuramente tre punti, ne ha preso uno solo, Juventus, Pirla, è sbagliata, ecco, voglio dire, ho capito che sei, però secondo me è un po' presunto su questo Pirla, io ho capito, tu sei alle prime esperienze, stai cercando di dare il tuo indirizzo alla squadra, però ricordati che il cano è, poi prima o poi, che se ti cacciano stesso, non se ne fregano se sei Pirlo o quello che sei. Sì, perché tu vai a Crotone, no? No, onestamente, è anche, insomma, è anche uno snobbare questa squadra del Crotone. Cioè, poi, che lettore, quella è venuta dalla Serie B, ora facciamo la primavera. Insomma, no, che significa? Hai fatto giocare, insomma, non è che sono addentro allo spogliatoio e alla rosa della Juventus, no. Però, insomma, certo, a Betena, certo, Ronaldo non ci sta, però, come si chiama, Di Bale in banchino, altri giocatori, quadrati in banchino, cioè, a un certo punto c'è una squadra di certi giocatori, ma pari frambotto, franata con, insomma, chillato, sono ragazzi della primavera e cosa, insomma, gli esperimenti, ma io a me non me ne importa, anzi, continuo, perché più perdi punti, più sono contento, no. Però, dico, hai perso tre punti, assicurati di tre punti, però poi fai giocare ai giovancelli. E, che significa? Quindi, Pirlo, hai sbagliato, hai perso tre punti. Per quanto riguarda la partita, infatti il Crotone moralmente ha meritato il punto, perché la Juventus non ha giocato bene e il Crotone ha dato test alla Juventus. Però, devo dire la verità, che la Juventus è stata anche sfortunata, ecco. Comunque, l'espulsione di Chiesa non c'era. Lui è entrato, ha fatto fallo, era ammunizione, è entrato a piede piatto, forte, tutto quello che vuoi tu, non ci sa proprio che l'espulsione. È stato sfortunato anche perché, poi non mi ricordo il rigore, pure il Crotone, no, non lo so, non mi ricordo. Poi, però è stato sfortunato anche Morada, Morada ha fatto un gol, poi ha fatto il colpo di testa, ha preso quel palo, il gol annullato, beh, là è colpa di niente. Per quanto è stato sfortunato, perché là, insomma, quando uno proprio per un millimetro ti danno il fuorigioco, è ovvio che non siamo. Quindi, siamo ai punti, insomma, per quanto riguarda le occasioni da gol, è chiaro che la Juventus meritava anche, comunque, di vincere, pur giocando male, eccetera. Comunque, vedete, non bisogna sottovalutare. Pirlo è sbagliato. Comunque, la Juventus quest'anno se n'è scesa. Non può essere, poi non lo so che farà, però al momento, non può essere considerata favorita unica dello scudetto. Anzi, abbiamo visto che un Milan che ha battuto l'Inter, sembra continuare quell'onda lunga dalla seconda parte del campionato dell'anno scorso e ha battuto l'Inter. Ecco, pur l'Inter, 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 che ha fatto l'Inter? Prima partita, fino al novantesimo, fino a quasi al novantesimo, perdeva 2-1 in caso con la Fiorentina. Poi, e questo è anche un merito, riuscire poi a ribaltare la situazione, ma puoi anche non riuscirci, però. Non è che ogni bota, negli ultimi cinque minuti, cagno tutto cosa. Quindi, hai rischiato forte, è una partita che hai quasi perso oramai. e invece ti sei trovato che l'hai vinto. Basta. Poi, Benevento hai vinto in Pompamagna, ma giocavi contro una squadra proveniente dalla Serie B. Poi, con la Roma, con la Lazio, sì. La Lazio sarà pure una squadra che comunque... Però, sì, tu vincevi 1-0 e ti sei fatto raggiungere. Ieri hai buscato. E quindi, caro Inter, te ne sei sceso. Conte, al momento non stai dimostrando niente di più rispetto all'anno scorso, al limite. Quindi, Milan in progresso, scende l'Inter. L'Atalanta, che io pensavo potesse essere veramente... Atalanta ridimensionata da chi? Dal mio Napoli. Ridimensionata in maniera perentoria, con un Napoli sfavillante che propone la sua candidatura alla vittoria finale insieme, secondo me, ecco, a Juventus, Inter, Atalanta, che se ne scende. Ecco, l'Atalanta se ne scende, il Napoli se ne scende, l'Inter scende, il Milan se ne scende, a Juventus se ne scende. Queste cinque squadre, al momento, stanno tutte sullo stesso, possono tutte vincere lo scudetto. Forse, anche la Roma, bisogna capire che direzione prenderà. Ha delle potenzialità, però è sempre a tale in alto. Vediamo che direzione prenderà. Perché in questo campionato, la Lazio è al momento niente. Tu hai buscato 3-0 con la Sampdoria, ecco. Però, vedi, queste squadre che devono giocare in Coppa dei Campioni. Juventus, Inter, Lazio e Atalanta hanno buscato tutto quanto. Nel senso che la Juventus è una pareggiata e equivale a una sconfitta. Ovviamente, per uno che deve vincere lo scudetto. Quattro sconfitte. Tutti coloro che vanno in Coppa dei Campioni si preoccupano, si deconcentrano quando c'è la partita di Coppa dei Campioni. Ecco qua, questo può essere un vantaggio per le squadre tipo Napoli, Milan e anche Roma. E' vero che hanno anche loro le Champions League, cioè hanno l'Europa League, ma questo non mette la pressione. Perché sì, si gioca, ma la priorità è il campionato. Mentre là, quando c'è la Champions League, vanno proprio così. Quindi, il Napoli-Milan, secondo me il Napoli-Milan potrebbe essere un testa a testa per lo scudetto. Quest'anno. Vedremo. Quindi, campionato molto equilibrato. Bel campionato, se riesce ad andare avanti. Perché poi vedremo un po' l'evolversi data la pandemia. Sul quale però incumbe ancora il famoso 3-0. Da provocato... Cioè, insomma... Il 3-0 che il Napoli ha subito dalla Juventus a tavolino. Per opera del giudice sportivo. Ora, 3-0 per me è giusto, perché il Napoli non si è presentato e poteva presentarsi a giocare quella partita. Questa è la mia visione. Nessuno mi leva dalla testa che De Laurentiis centri qualcosa. Ma non so come ha costruito la cosa o se addirittura ha preordinato le cose in una certa maniera. Oppure si è limitato ad approfittare di un atteggiamento dell'Asl per sfruttarlo e giocarci sopra e arrivare a questa situazione. Però De Laurentiis c'entra. E vi spiego anche il perché. Non è della Juventus che se ne importava. Lui alla fine della Juventus se ne importava proprio. Dice, sì, vabbè, perché è una par... Lui cosa pensava? Lui cosa voleva fare? Lui aveva paura che questi giocatori del Napoli, dopo la partita... Perché se tu autorizzi quella partita, poi il discorso quarantena di 15 giorni non ci sta più. Perché non è che dice, ma gioca e ma vai in quarantena. O vai in quarantena e allora invece no. A quel punto se ne sarebbero andati a destra e a sinistra a giocare Mertes in Belge, che là da là... Quindi poi tornavano o con il virus o magari qualcuno che ha subito un incidente. Quindi questa è stata sempre una fissazione di De Laurentiis. De Laurentiis mi impazzisce. Quando ci sta la sosta internazionale di De Laurentiis... Perciò è stato calmo, perché non è tenente. Un po' perché sa, sa che c'entra in questo pasticciaccio lui. Però anche sotto sotto è contento. Dice, sì, hai visto? Non sono riuscito, non sono andati, non sono andati. Ma la prossima volta andrà. Quindi non è che può fare sempre sta storia della Venti. Quindi, però stavolta, e non solo, la cosa ha pagato. Quindi questo era il motivo. Lui non voleva, voleva che si affermasse questa quarantena. E così i giocatori erano costretti a stare qua, come è stato. Nel frattempo, quindi stavano concentrati. Non si facevano male, non si prendevano virus, non si stangavano. Concentrati sopra alla partita di domenica, come si è visto. E soprattutto in queste due settimane c'è stato un lavoro importante di Gattuso. Quindi Gattuso ha potuto probabilmente costruire la squadra definitiva per il campionato. Quindi diciamo che se non fosse, prima perché le scorrettezze non devono essere fatte, i patti vanno rispettati. E quindi a me non piace. Ma se non fosse per questo e per il fatto che comunque al momento di rimanere una partita, una sconfitta con la Juve, è un punto di penalizzazione che comunque è uno svantaggio. Allora il suo piano poteva anche andare bene. Quindi se tu, nella tua furbizia, anche se in maniera un po' ingiusta, riesci a far annullare quella decisione, con i tuoi avvocati e cose, io sarò contento perché il Napoli a quel punto avrà avuto un vantaggio. Da tifoso lo accetto onestamente, pur non condividendo il comportamento dell'Aurentis. Quindi speriamo che questa tua pazzia abbia portato alla fine degli effetti positivi. Quindi vedete com'è la situazione. Siamo di fronte a un campionato che può riservare grosse sorprese. Sarà un campionato spettacolare, sembra. Ci saranno cinque squadre che lotteranno. A proposito di cose, pare che pure la Zeta sia venendo qua, però dice che, venendo qua no, io sono a Londra, quindi sta venendo a Napoli, pieno di virus. Sta pieno proprio, nove giocatori eccetera. E dice, Borriello, l'assessore Berlè ha detto no, non si dovrebbe giocare, non vuole che si giochi. Ma veniamo all'Aslo, che fa? Non so come funzionerà. Però vediamo di non farci cacciare almeno dalla Champions, dalla Europa League. D'altro canto volevo proprio vedere se questa settimana ci fosse stata la partita con la Juventus e quella situazione di due settimane fa con poi l'Europa League, come l'avrebbe messo? Non credo che De Laurentiis avrebbe architettato tutta questa cosa. Quindi vabbè. Comunque ragazzi, il Napoli può vincere lo Scudetto e a livello di tutte queste altre squadre vedremo nelle prossime giornate quale sarà. Questo sarà un campionato con sorpresa.